Quello che vedete sullo schermo non è opera di un pittore astratto. Quello che vedete sono frammenti di tessuto trovati sotto le unghie della vostra compagna barbaramente uccisa una settimana fa. Di che frammento si tratti? Ce l'ha svelato definitivamente questo foulard. Stretto attorno alla gola di Carol Pellissier, che come la sua compagna presentava tracce di violenza carnale. Se qualcuno di voi ricorda di aver veduto qualcosa di simile al collo di un compagno o di un'amica, sappia che è suo preciso dovere dirlo. Spero siate tutti d'accordo che quest'assassino debba essere tolto dalla circolazione e che almeno in un caso come questo vogliate considerare la polizia per quello che è uomini che vi difendono. Dopodiché potrete continuare tranquillamente a prenderci assassate per le strade. A presto! A presto! A presto! Oh, no! Oh, no! Oh, no!